Giovani e teatro, duplice iniziativa a Barletta, questa sera al teatro Curci Don Quixote, uno spettacolo proposto dalla compagnia PUC con Tonio Logoluso e Mariella Parlato. Gli stessi attori e tecnici del gruppo terranno a Barletta un laboratorio di iniziazione al teatro per studenti e ragazzi desiderosi di scoprire i segreti del palcoscenico.